Le elezioni non governative decise a influenzare le scelte contro la fame del mondo. Il manifesto è stato lanciato a Napoli, una delle tappe di avvicinamento c'era per noi Gianni Occhiello. Di fame nel mondo si continua a morire. Sono 805 milioni le persone che la soffrono, mentre nei paesi più ricchi i bambini obesi hanno superato quelli denutriti, dati inconfutabili di una vera e propria piaga sociale e morale. Sul banco degli imputati i governi che ignorano il problema e le grandi multinazionali del cibo che gestiscono e controllano il settore alimentare. Nasce così Expo dei Popoli, il comitato che raggruppa oltre 40 ONG, associazioni italiane, reti e movimenti contadini, insieme con un'altra idea di come nutrire il pianeta e lanciare una sfida, influenzare il dibattito di Expo 2015. Nel Castel dell'Ovo a Napoli, una delle tappe di avvicinamento all'evento che si terrà a Milano dal 3 al 5 giugno prossimo. Un forum indipendente dove diremo forte e chiaro che fame e povertà non si vincono, inserendo più mercato e più tecnologia, ma si vincono solamente inserendo più diversità e più democrazia, garantendo la partecipazione dei contadini, degli allevatori, dei pescatori di piccola scala in tutto quello che è la governance del cibo. Alla serata esperti e rappresentanti impegnati sul delicato tema dei diritti umani alla nutrizione e ai beni comuni. Tra gli altri lo scrittore storico inglese Tristram Stewart, autore del libro Vast Uncovering the Global Food Scandal e attivista del Free Games, uno stile di vita per combattere gli sprechi alimentari della grande industria e del consumismo. Il cibo, ritenuto di scarto e buttato via, diventa così la fonte primaria per alimentarsi. Dobbiamo diffondere la voce su questo scandalo mondiale. Attraverso la campagna Feed 5000 abbiamo dimostrato che è possibile nutrire una larghissima maggioranza di persone con il cibo che viene sprecato. Altre campagne e movimenti stanno diffondendosi in tutto il mondo. Quello che è uno scandalo però può diventare un'opportunità. I grandi sprechi dei paesi sviluppati possono diventare con le nuove tecnologie e le conoscenze che abbiamo la svolta e rappresentare una grande opportunità per combattere la fame e per salvaguardare l'ambiente con meno sfruttamento per lo stesso. E c'è chi ha rinunciato al ruolo di testimonial di Expo 2015 perché ritiene che la grande esposizione universale non affronti le vere problematiche riguardanti i paesi più poveri. I motivi per i quali avevo accettato di aderire a questa iniziativa era l'idea che il sud del mondo fosse in qualche maniera preservato, protetto, ospite d'onore in una manifestazione come questa. Che ci fosse attenzione alle esigenze di chi il cibo che noi mangiamo lo produce, lo fa, lo realizza e spesso non arriva neanche a mangiarlo. Fondamentalmente mi sembra una grande fiera di food and beverage in cui l'alimentazione del pianeta è intesa come il magna magna. A chiudere la serata l'attore comico e scrittore Giobbe Covatta che a modo suo racconta della fame nel mondo anche per la sua personale esperienza maturata con l'associazione AMREF per i bambini africani. Siamo qui all'Expo dei Popoli che è uno spin off che non è una cosa a parte dell'Expo che come tutti sanno si pone come obiettivo ultimo di sfamare il pianeta. C'è cibo sufficiente per sfamare 11 miliardi di persone, noi siamo 7 miliardi quindi dal punto di vista puramente teorico sfamare 7 miliardi di persone è facile, allora il fatto che un miliardo di questi 7 miliardi soffra la fame non dipende dal fatto che non c'è da mangiare, dipende dal fatto che non hanno i soldi per comprarlo. In realtà è difficile spiegare ai bambini del terzo mondo perché qua siamo tutti obesi e là sono tutto sicca, è difficile spiegargli perché non c'è una spiegazione, perché bisogna ricorrere a delle invenzioni culturali, bisognerebbe ricorrere a delle forme legate alla latitudine, perché uno che è nato alla latitudine più bassa dovrebbe avere meno diritti di chi è nato alla latitudine più alta, allora a che si può ricorrere per spiegare una cosa di questo genere, al denaro perché come si fa a spiegare a uno? Tu sei povero, non mangi, io sono ricco, mangio ininterrottamente, non è quindi neanche questa una buona spiegazione, che altra spiegazione si può utilizzare? Nessuna, non c'è nessuna spiegazione da poter dare a un bambino che sta morendo di fame, nessun grumo di parole che possa in nessun modo giustificare quello che sta accadendo.